Buonasera, ben ritrovati, rieccoci al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Settimane importanti per la Camera di Commercio di Foggia, alle prese con l'asta per la cittadella dell'economia, la fusione delle aziende speciali e le prime cinque assunzioni. Sentiamo al riguardo Lucia Piemontese. Sono diverse le partite aperte che stanno interessando la Camera di Commercio di Foggia e che stanno calamitando l'attenzione di molti, sia dentro che fuori il territorio di Capitanata. La più importante riguarda l'allenazione della faraonica sede di Via Protano, ovvero la cittadella dell'economia, che costò circa 32 milioni di euro anni fa e che pesa ancora oggi come un macigno sulle casse dell'ente camerale. Dopo il primo vanno tentativo con asta andata deserta ad aprile scorso, è stato pubblicato il secondo avviso d'asta. Il prezzo è ridotto del 15% e dunque è arrivato a 22 milioni 683 mila 950 euro e vi inclusa. La scadenza è fissata per mezzogiorno del 14 giugno e le offerte saranno aperte il giorno successivo alle 10. La seconda partita riguarda la fusione delle aziende speciali con l'accorpamento di Camtech a Cezan. E infine c'è una terza ragione per cui gli occhi di tanti sono puntati sull'ente camerale foggiano. Le prime cinque assunzioni che verranno fatte nei prossimi mesi. I posti messi a concorso lo scorso 10 maggio sono ambitissimi come si può immaginare. La procedura riguarda 5 unità di personale di categoria giuridica C, profilo professionale assistente servizi amministrativi e di supporto, di cui un posto riservato prioritariamente alle forze armate. Il concorso è aperto fino al 9 giugno. Inutile dire che ci sono già dei pronostici su quelli che potrebbero essere i fortunatissimi vincitori. Investire sui giovani è questa la ricetta per il futuro di Autogrill, azienda che da anni opera sul territorio nazionale e si impegna a valorizzare la crescita professionale dei talenti del paese. Al Cursal di Bari l'evento, in collaborazione con la Regione Puglia, dedicato all'orientamento e alla formazione per le ragazze e i ragazzi pugliesi. Oggi incontriamo moltissimi ragazzi degli istituti professionali dedicati al nostro mondo, quindi al settore del turismo, per spiegare bene quali sono le opportunità professionali in questo settore. Io credo che sia importante non solo spiegare che c'è un'opportunità lavorativa, ma che ci sono delle grandi opportunità professionali di crescita in questo settore e questa è un po' la nostra responsabilità come grande azienda presente in tutti i territori, in Italia e anche all'estero, quello appunto di spiegare le grandi opportunità di crescita che le persone possono incontrare da noi sviluppando il loro percorso professionale. Innanzitutto, gratitudine per Autogrill che finalmente, e spero che il suo esempio sia seguito da altre aziende, si è resa conto che la formazione va iniziata presto, la connessione tra la disponibilità dei ragazzi e la utilità per l'azienda dipende da come tu hai formato queste persone. Quindi abbiamo cominciato a collaborare prima ancora dell'assunzione e soprattutto stiamo cominciando a selezionare ipotesi di investimento e di formazione, quindi il progetto imprenditoriale e la formazione che vanno insieme in modo tale che tu non rischi di formare delle persone senza avere un'impresa dove assumerle o viceversa, peggio ancora, che fai degli investimenti per realizzare un'impresa e non hai la mano d'opera necessaria. Questo lavoro possiamo farlo con tutte le grandi imprese, quindi Autogrill ha dato un buon esempio. L'annuncio è stato fatto ai sindacati il lunedì scorso nel corso di una riunione convocata a Bisceglie. Paolo Telesforo lascia la guida dell'omonimo gruppo attivo nella sanità pubblica. Il timone dunque passa al familiare e collaboratore Luca Vigilante. Sentiamo Cinzia Celeste. Si potrebbe dire che è la fine di un'epoca. Paolo Telesforo ha annunciato di essere in procinto di lasciare la guida dell'omonimo gruppo imprenditoriale, attivo, come è noto, nel settore della sanità privata. Come suo successore lo stesso ha designato il genero Luca Vigilante, già ampiamente coinvolto nell'attività di famiglia e apprezzato collaboratore del patron. La scelta si ricuoterà anche sulla governance di Universo Salute, la società che vede nel gruppo Telesforo il suo azionista di maggioranza. Oggi Paolo Telesforo è amministratore delegato dell'ex Donuva, salvato dal fallimento qualche anno fa grazie al suo dalizio con un altro big della sanità privata, Michele Dalba. Lunedì mattina l'imprenditore foggiano ha convocato presso la sede di Biceglie del Donuva i rappresentanti delle sigle sindacali che riuniscono i lavoratori in forza nelle strutture di Universo Salute per comunicare le proprie decisioni. L'addio potrebbe essere già formalizzato entro giugno. La notizia, come prevedibile, ha destabilizzato osservatori e addetti ai lavori, almeno in parte. Se da in lato infatti c'è chi è stato colto di sorpresa dall'annuncio dell'imprenditore e si chiede cosa possa aver mai spinto Telesforo a lasciare il timone dell'impresa al suo familiare. Dall'altro c'è invece chi riferisce che la decisione era già nell'aria da almeno un annetto. Pescatori di Manfredonia in stato di agitazione non prendono il mare dal lunedì scorso e stamattina si è tenuta una riunione nei locali del mercato ittico per organizzare la presenza nella manifestazione che si svolgerà domani a Bari, a cui prenderanno parte tutte le marinerie pugliesi. Ce le parla Matteo Fidanza. Domani tutta la Puglia in concomitanza, tutte le marinerie ci sposteremo, faremo un sit-in davanti al varco della Repubblica Bari. Per manifestare il nostro disagio sarà un sit-in ad oltranza, sta già certificato, ho fatto tutte le domande. Quindi ad oltranza fin quando non abbiamo delle risposte e dei chiarimenti non con le parole verbale, cioè ce le devono mettere per iscritti, ci devono poter far andare un'altra volta in baccazione al lavoro. Per fare questa cosa qua devono abbassare per forza i gasolio. Se non si abbassa i gasolio e loro non prendono un provvedimento nell'immediato per far abbassare questo prezzo di gasolio, noi non possiamo operare. Quindi dobbiamo stare fermi. Quando dobbiamo stare fermi a casa no senza portarci niente, siamo fermi là e dormiamo là fin quando loro non si decidano. Alla caserma dei carabinieri di Biccari questa mattina è stata scoperta una stele dedicata alle vittime delle stragi di Nassiria. È stato un momento di grande emozione con la presenza della famiglia di un caduto nel 2006. Ce ne parla Riccardo Zingaro. La caserma dei carabinieri di Biccari è una delle poche in Italia a ospitare i militari di città e quelli forestali e da stamattina si è arricchita anche di un vero e proprio monumento dedicato alle vittime delle tre stragi di Nassiria. C'erano le autorità locali e i vertici provinciali e territoriali dell'arma assieme ai rappresentanti di tutte le forze dell'ordine militare di Capitanata, oltre ai quasi cento soci della sezione di Lucera dell'Associazione Nazionale Carabinieri che ha promosso e finanziato l'opera in marmo collocata nel cortile della struttura. Nel raccoglimento del ricordo sono stati citati i nomi di tutte le vittime cadute in operazioni di pace in Iraq e per ciascuna di esse è stato fatto volare un palloncino bianco tenuto in mano dai bambini delle scuole del paese. La cerimonia ha visto la presenza della famiglia di Etrizio, parenti del maresciarlo Carlo morto nell'attentato del 27 aprile 2006. È stata una mattinata di memoria e di esaltazione dei valori della pace e del sacrificio, con le note del silenzio che hanno reso omaggio a chi ha dato la vita in nome della patria. E' stata costituita a Sansevero la rete della capitanata Costruiamo Gentilezza. Le amministrazioni che hanno aderito, oltre a comunicare e promuovere buone prassi, si sono impegnate attraverso la sottoscrizione di un protocollo a creare azioni ed eventi per coinvolgere le comunità. sentiamo Beniamino Pascale. Assessore, lei in mano che cosa parte quindi stasera ulteriormente alla rete dei comuni della gentilezza? Partono due cose veramente importanti. La rete di Costruiamo Gentilezza a livello provinciale, cioè quella nazionale è oggi qui a Sansevero, si segna una pagina importante della provincia di Foggia. E poi a livello proprio proposta da me al nostro Presidente Luca Nardi, che ringrazio, è stata istituzionalizzata la fascia viola della gentilezza che ci identificherà per la nostra comunità. Attraverso questa fascia noi daremo esempio di buone pratiche verso la nostra comunità, tutte le nostre comunità che noi rappresentiamo. Grazie. Bene, è tutto anche per questa sera. Il Tg termina qui. Io vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 14. Vi auguro un buon proseguimento di serata e grazie per essere stati con noi. Grazie.